abbiamo una nuova puntata del ciclo di catechesi Adamo e la vita nella divina volontà che è giunto se non ricordo male alla ventitresima puntata oggi sempre andando navigando nel ventiquattresimo volume vedremo alcune tematiche molto belle non so fino a che punto riusciremo ad arrivare però il culmine di questo discorso che questa sera cominciamo non so se si riuscirà a terminare e ovviamente non si terminerà neanche la settimana prossima perché martedì prossimo è il giorno di Natale quindi ci riaggiorneremo poi farò sapere un po' su Facebook un momento possibile in cui collocare eventualmente questa catechesi perché c'è stata prima Natale e martedì dopo è il primo dell'anno quindi vedremo un pochino in ogni caso il culmine di questo discorso sarà molto molto bello perché avremo delle sorprese sulla grandezza di Adamo quindi Adamo è una figura veramente per certi aspetti ambivalente perché nessuno è stato come lui nessuno è stato come lui era nessuno per certi aspetti era fatta più grossa di lui però vedremo e questo è di grandissima consolazione che tutto quello che lui è stato prima della colpa d'origine dal momento che non era semplicemente un modo di agire semplicemente giusto bello e buono ma divino ha prodotto delle cose anche per lui sorprendenti per cui attenzione anche non avere stima e riverenza per il nostro progenitore perché potrebbe essere non molto prudente non sintonizzarsi su questi canali allora la prima cosa che vedremo questa sera riguarda il tema malattie cioè il nostro signore noi sappiamo dalla dottrina della chiesa che ogni male compreso il male fisico compresa quindi la malattia deriva dal peccato e diciamo che Gesù ci dirà qualcosa come dire che ovviamente conferma questo ma anche come dire che si addentra un pochino nella dinamica nel meccanismo forse io leggerò anche un passo parallelo perché alcune caratteristiche della vita di unione con la divina volontà devono essere chiare nella nostra mente sia per sapere verso cosa tendiamo sia per avere qualche come dire qualche spia qualche indizio ne da tanti il nostro signore veramente in questi scritti di raccapezzarci un po' quando ci avviciniamo all'obiettivo insomma alla meta quindi avere qualche criterio di verifica e di discernimento allora il testo che leggiamo adesso è del 7 luglio 1928 siamo sempre nel volume ventiquattresimo comincio la lettura stavo seguendo il mio dolce Gesù nella sua vita pubblica e pensando alle tante malattie umane che Gesù risanò pensavo tra me perché la natura umana si trasformò tanto fino a far diventare chi muto chi sordo chi cieco chi coperto di piaghe e tanti altri mali se il male lo fece la volontà umana perché subì tanto anche il corpo? bella domanda ed il mio dolce Gesù muovendosi nel mio interno mi ha detto figlia mia tu devi sapere che il fisico non fece nulla di male ma tutto il male lo fece la volontà umana ma siccome Adamo prima di peccare attenzione possedeva nell'anima sua la vita totale della mia volontà divina si può dire che era pieno fino all'orno fino a traboccarne quindi l'umana volontà in virtù della mia traspariva fuori luce esalava tutti i profumi del suo creatore profumi di bellezza di santità e di piena salute profumi di candidezza di fortezza in modo che come tante nubi luminose uscivano dalla sua volontà e il corpo restava talmente abbellito in virtù di queste esalazioni che era un amore il vederlo bello vegeto luminoso sanissimo con una grazia che rapiva ora come Adamo peccò la volontà umana restò sola e non aveva più chi spandeva nella sua la luce la varietà di tanti profumi e che trasparendo fuori conservavano l'anima e il corpo come era stato creato da Dio invece incominciò ad esalare da dentro la volontà umana dense nubi aria putrida odori di debolezza di miseria in modo che anche il corpo perdette la sua freschezza la sua bellezza si debilitò e restò soggetto a tutti i mali partecipando ai mali della volontà umana così come partecipò al bene sicché se si sana essa attenzione la volontà umana col darle di nuovo la vita del mio volere divino come d'incanto tutti i mali della natura umana non avranno più vita la bellissima notizia è proprio questa conclusione e voi sapete la bella notizia che poi è la traduzione del Vangelo sapete che il Vangelo si predica perché deve essere anzitutto creduto ci credi? partiamo proprio dal punto di arrivo se si sana essa cioè cosa? la volontà umana col darle di nuovo la vita del mio volere divino come d'incanto come d'incanto tutti i mali della natura umana non avranno più vita attenzione qui Gesù cioè uno certo nessuno potrà mai fare la prova al cento per cento perché ci vorrebbe qualcuno che ci rivelasse tu stai veramente fuso col divino volere guardate questo a mio avviso nessuno lo può sapere con certezza a meno di una di una rivelazione quindi se la Santa Madre Chiesa insegna nel concilio di Trento che non possiamo essere certi nemmeno di stare in grazia di Dio questo è il canone tridentino cosiddetto figuriamoci se possiamo essere certi di stare fusi con la divina volontà noi possiamo sperarlo possiamo vivere in modo tale da esserci possiamo inferirlo come dire prudentemente da alcuni ispira alcuni indizi però se fosse possibile verificarlo se me viene l'influenza e io dal nostro signore gli dico che è qua ma così non è capite allora Gesù dice una cosa molto 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 importante cioè che tutto quanto la perfezione tutta quanta la bellezza soprannaturale la salute erano tutte quante esalazioni usa questo termine molto molto belle ridondanze traboccanze della presenza della divina volontà nell'anima di Adamo fusa con quella umana appena questo si è strac separato tolto la volontà rimane da sola e comincia a esalare cosa? puzze nubi debolezze miserie aria putrida debilitazione perdita della bellezza sapete chi sono i più brutti e le più brutte persone della terra più brutte proprio da un punto di vista esteriore i peccatori i peccatori non in un senso dispregiativo o giudicanti i peccatori sono coloro che sono talmente lontani dalla divina volontà che gli fanno la guerra che la divina volontà dice ah io dico b allora voglia andare in giro per lifting cose anche chi ha i lineamenti naturali belli diventa brutto se fa il male diventa brutto e viceversa chi ha i lineamenti bruttarelli se si avvicina a Dio e vive nel bene diventa bello cioè c'è un c'è un addolcimento proprio un abbellimento dei tratti dei modi dello sguardo del portamento quindi capiamo anche per quelli che ci tengono un pochettino alla bellezza esteriore qui c'è una via buona anche per questo che non è certamente la cosa principale no? il problema il problema il punto è la presenza o meno della divina volontà io vorrei condividere leggere un passo del volume 23 che leggevo proprio recentemente che mi ha molto impressionato cioè che parla del fatto che quando c'è la divina volontà allora qui Gesù dice quando c'è la divina volontà non ci può non essere la salute perfetta del corpo questo è quello che dice i mali sono venuti perché questa cosa in Adamo non c'è stata più non c'è più nei suoi discendenti e quindi sappiamo che ce ne sono tante di queste cose che Gesù dice negli scritti un'altra è un'altra situazione di incompatibilità strutturale chiamiamola così se c'è la divina volontà è impossibile è impossibile che non ci sia dentro l'anima gioia e felicità attenzione anche in situazioni di dolore atroce perché Gesù parla della sussistenza di questi stati di felicità e di gioia in chi nell'anima sua e in quella della madonna sotto la croce capito? allora questo è il volume 23 6 dicembre 1927 Gesù dice queste parole leggo un pochino sappi che dove regna la mia volontà la mia volontà qual nobile regina divina possiede attenzione gioie immense e felicità senza fine il dolore le lacrime le amarezze sono nate nel tempo tutti parti della volontà umana non sono nati nell'eternità né sono parti suoi sono limitati e finiti e perciò non hanno potere rientrare minimamente nel pelago della felicità del mio volere divino cioè immaginiamo io sto soffrendo c'è una cosa c'è una sciagura lacrime sofferenze ma c'è in me la divina volontà è come giù su un muro impenetrabile cioè questa roba lì dentro non ci può entrare né a causa di queste la divina volontà può venire meno prosegue Gesù questo è il modo divino in questo stato attenzione si trovò la regina del cielo e la mia stessa umanità tanto che tutti i nostri dolori e furono troppi di tutte le specie non potettero scemare né penetrare nel colmo delle nostre interminabili gioie e felicità prosegue perché qui qui si stava dicendo che dice ma io ho sempre sofferto tanto quando Gesù se ne andava ma prima smaniavo e piangevo adesso non succede più questa era l'occasione che aveva dato il là a questa spiegazione di Gesù sentite cosa come continua sicché prima le tue smanie le tue lacrime e i disturbi quando per poco non mi vedevi erano residui della volontà umana tua la mia non ammette queste debolezze la mia non ammette queste debolezze e siccome essa per natura non le possiede dove regna qua regina domina il dolore lo fa correre ma non ammette che entri nella sua felicità con cui ha riempita la creatura con regnare in lei il dolore non troverebbe posto dove mettersi nel mare interminabile della felicità della mia terrabile volontà non vuoi tu forse che sarei in te che ti impensierisci del mutamento che senti nell'anima tua la mia volontà divina la sua vita attenzione la mia volontà divina la sua vita prendiamo la matita rossa si parla di Adamo è la vita nella divina volontà la mia divina volontà dice Gesù ha la sua vita e quando all'anima apre le porte della sua volontà per farla entrare dominare farla entrare dominare ascoltiamo bene questi termini essa entra nell'anima attenzione e svolge la sua con la S maiuscola vita con la V maiuscola in lei tutta divina capite cioè non si vive più una vita tua si vive cioè tu vivi della vita divina che vive in te e qua regina che è regina con la R maiuscola forma in essa la sua vita forma in essa nell'anima la sua vita di luce di pace di santità di felicità e la creatura sente come sue proprietà tutti i beni suoi e se sente il dolore attenzione lo sente in modo divino che non le porta nessun danno a tutto ciò che la mia volontà divina le ha comunicato capito quindi se uno soffre nella tristezza nel turbamento nell'angoscia eccetera eccetera e non soffre alla grande quindi alla grande significa soffrendo tanto ma mantenendo la profonda felicità del cuore la profonda pace del cuore la profonda gioia del cuore derivante anche dal fatto che se sta toccando mi fratello dolore o sorella sofferenza ed è divina volontà sia la strabenvenuta benibilliva fantastico meraviglioso d'accordo non ci siamo ancora quindi se c'è la divina volontà non ci sono malattie d'accordo deformazioni della salute se c'è la divina volontà il dolore ci può coesistere d'accordo ma non disperazioni lacrime strappamenti di capelli smanie disturbi zero è un dolore che non toglie la felicità la luce la pace la santità dall'alto non lo può fare questo qui Gesù spiega perché lacrime dolori amarezza sono cose nate nel tempo parti dell'umana volontà lo capite la volontà divina è eterna non è nata nel tempo ed è divina non è umana cioè sono due grandezze incommensurabili sono due ordini di proporzione irriducibili l'uno all'altro con una sproporzione infinita ecco questo come primo punto e possiamo considerarlo sufficientemente come dire approfondito fermo sempre restando l'ulteriore approfondimento adesso vediamo un altro brano sempre della raccolta della raccolta degli iscritti su Adamo che è sempre del 24esimo volume stavolta però 12 agosto 1928 questo è un altro passaggio molto importante e molto delicato stavo continuando il mio giro nella creazione ed ora mi soffermavo ad un punto e ora ad un altro per poter seguire e guardare ciò che Dio aveva fatto nella creazione e giungendo a ciò che aveva fatto Adamo attenzione nello stato di innocenza dicevo tra me come vorrei saper fare ciò che fece il nostro padre nello stato di innocenza per poter anch'io amare e glorificare il mio creatore come fece lui nello stato primiero della creazione ma mentre ciò pensavo il mio amato Gesù muovendosi nel mio interno mi ha detto figlia mia Adamo questo è un prequel del brano successivo che approfondisce molto questo punto Adamo nello stato della sua innocenza possedendo la mia la vita nella mia divina volontà possedeva la vita e la virtù universale perciò nel suo amore e negli atti suoi io trovavo accentrato attenzione l'amore di tutto e di tutti e tutti gli atti erano unificati insieme neppure il mio operato era escluso dall'atto suo il mio operato era l'operare di Dio quindi io trovavo tutto nell'operato di Adamo trovavo tutte le tinte di bellezza pienezza d'amore maestria inarrivabile ed ammirabile poi tutto e tutti ora chi vive nel mio volere risale nell'atto di Adamo innocente e facendo sua la vita e virtù universale fa suo l'atto di lui non solo ma risale negli atti della regina del cielo in quelli del suo stesso creatore e scorrendo in tutti gli atti si accentra in essi e dice tutto è mio e tutto dormi o Dio come è mia la sua volontà divina così è mio tutto ciò che è uscito da essa con la E maiuscola ed io non avendo nulla di me col suo fiat ho tutto e posso dare Dio a Dio o come mi sento felice glorioso vittorioso nell'eterno volere posseggo tutto e posso dare tutto senza nulla esaurire delle mie immense ricchezze sicché non c'è atto né in cielo né in terra in cui non trovo chi vive nella mia volontà ci sono dei passaggi spero sempre lo spirito santo apramenti e cuore perché quello che sta qui dicendo Gesù sono cose grosse più e non parla soltanto di Adamo adesso per esempio Luisa ha avuto anche attraverso tutte queste rivelazioni l'intuizione e l'intelligenza di dire ma come saranno stati gli atti di questo nostro progenitore nello stato di innocenza quanto saranno stati belli quanto saranno stati grandi come vorrei saperlo e Gesù gliel'ha rivelato nello scritto successivo che è un po' lunghetto non so se farlo questa sera oppure adesso vediamo se forse si gli dirà io prima di adesso a nessuno avevo detto quello che aveva fatto Adamo e le conseguenze delle sue azioni e quindi quanto per quello che fece era grande non l'aveva detto a nessuno non l'aveva ancora rivelato perché perché non c'è senso rivelare una cosa se io devo stare a dire ah beato lui quindi però questa è una cosa che tanto non è più e invece qui la cosa bella è che questa può riessere questa è la cosa bella allora vediamo cos'è la divina volontà nello stato di innocenza di Adamo attenzione lui possedeva attenzione abbiamo stato trovando la vita della divina volontà è una vita d'accordo cioè è una potremmo dire autocomunicazione da parte di Dio della sua stessa vita divina in essa quindi possedeva attenzione la vita e la virtù universale perciò attenzione nel suo amore e negli atti suoi io trovavo accentrato l'amore di tutto e di tutti e tutti gli atti erano unificati insieme questi passaggi sono passaggi delicati ma non troppo difficilmente comprensibili se uno comincia un po' a comprendere cosa significa vivere e operare nella divina volontà cioè la divina volontà l'abbiamo visto la scorsa settimana abbraccia come un punto unico atto unico del Friat Supremo senza successione temporale tutto ciò che è che è stato e che sarà tutto se io quindi agisco in essa quello che io porto a Dio quello che io mostro a Dio quello che io opero in Dio non è semplicemente la mia azione ma faccio miei tutti gli atti di quella stessa divina volontà e tutti li riporto per la sua gloria semplicemente operando al mio creatore tutti non solo io stesso partecipo all'operato del mio creatore neppure il mio operato è escluso dall'atto suo quindi dice Gesù io trovavo tutto nell'operato di Adamo cioè la creatura intelligente che vive la vita della divina volontà dà a Dio la gioia di ritrovare nella singola creatura intelligente questo è Adamo ma questo sei anche tu e sono io se riusciremo per grazia di Dio vivere in questo mondo cioè nei miei atti non c'è solo l'atto di Leonardo Maria oppure l'atto divino di Leonardo Maria ma ci sono tutti gli atti della divina volontà contenuti e sparsi in tutto il creato ecco questa unificazione di tutti gli atti nel unico atto io trovavo tutto nell'operato di Adamo trovavo tutte le vite di bellezza pienezza d'amore maestrina arrivabile ed ammirabile e poi tutto e tutti questo dobbiamo comprenderlo questo qui ora chi vive nel mio volere risale nell'atto di Adamo innocente e facendo sua la vita e virtù universale ancora questo termine doppio fa suo l'atto di lui risale negli atti della regina del cielo e in quelli del suo stesso creatore e scorrendo in tutti questi si accentra in essi e dice tutto è mio e tutto do al mio Dio così è mia la sua volontà divina così è mio tutto ciò che è uscito da essa capite se la vita della divina volontà è in me e tutto ciò che la divina volontà ha fatto uscire da lei è in me e lo riporto al Signore e ne godo come se fosse una cosa mia adesso poi vedremo una cosa bellissima anzi la stavo leggendo questa stavolta stasera ma a un certo punto lui si diceva ma com'è mai che io sento 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 così spesso il bisogno di di fare tanti giri nella creazione l'ho fatti tante volte cioè l'ho girato tante volte nel sole nelle stelle nel mare ma ogni tanto mi sento che ci torna un'altra volta ma com'è che sento sta cosa e Gesù ti dovresti chiedere come fai a non sentirla perché il sole il mare e la creazione sono cose tue sono cose mie sì sì sono cose tue perché sono opere di Dio ma se tu stai nella divina volontà quelle cose cioè quando ti vive tutto ciò che è mio è tuo tutto ciò che è tuo è mio ricordiamo sempre specialmente chi la conosce e chi la vive la spiritualità monfortana il segreto di Maria il trattato della vera devozione qual è? è questa unione tale che io sono tutto di Maria per la mia offerta e lei è tutta mia per grazia tutto ciò che è mio è tuo e tutto ciò che è tuo è mio però anche lo puoi andare a prendere e questo nella divina volontà si ritrova paro paro è solo che quelli il termine di riferimento non è la più santa fra le creature umane la seconda a Dio solo ma è Dio stesso quindi che succede te meravigli che fai i giri che ti devi cioè per forza quella è roba tua è roba tua dice il testo cito anche questo ecco perciò la necessità che tu senti di girare in tutta la creazione perché è roba tua questo è 8 dicembre 1927 e chi ti ha generata col suo filo elettrico di luce e di amore ti chiama a godere ad amare ciò che è suo e tuo e gode di sentire e ripetere i tuoi riveluti di tornelli venga il regno del tuo figlio sulla terra ora cioè adesso qui non si tratta di cioè questa è una percezione bellissima capite cioè immaginate no per esempio adesso sono sacrosanti i problemi no pensiamo per esempio ai problemi dell'ecologia o al rispetto del creato anche il papa recentemente ci ha di nuovo sollecitato no ma voi che vi immaginate se queste cose diventano realtà adesso in Italia il governo non importa niente a me del governo è una notizia che ho sentito dire e quindi la ripeto semplicemente perché come dire funzionale è quello che sto parlando noi se dobbiamo fare l'educazione civica dobbiamo insegnare ai ragazzini che non si sporcano le strade per esempio no non voglio dire nient'altro la politica non ci interessa ma voi capite uno che vive nella dinamontà ma pensate che c'ha bisogno dell'educazione civica io imbratto l'ambiente io imbratto l'ambiente butto la plastica sulla spia io lascio le buste di plastica sulla spia quella è casa mia quella lì d'accordo cioè io lì riconosco il tocco la mano di nostro signore un'opera sua ma io non la vado a imbrattare capito gli animalisti ma trattamenti sui animali assoluto io vado a maltrattare un animale io cioè che questa è un'opera di di nostro signore ma non esiste no all'attenzione al surriscaldamento mondiale del clima che ci stiamo a morire caldo e che chi lo sa che cosa che le strage va a succedere d'accordo quindi si comprenda anche come questi valori saggiamente intesi io credo che siano valori trasversali questi qui fanno parte della della vita cristiana cioè non è un problema di educazione solo solo civica cioè la buona creanza la buona educazione quindi no no capite queste sono sono cose che sono evidentemente maturate dentro un'anima che vive questo no a tutte pare che il nostro signore giusto Cristo o la madonna imbratterebbero l'ambiente non credo proprio immaginiamo noi sappiamo per esempio no facciamo facciamoci questo cioè allora adesso tra poco è Natale bellissimo come ci sono andati Maria e Giuseppe a Nazare a Betlemme e poi da Betlemme scappati in Egitto mica sono andati a piedi no c'erano avuto un asinello e la madonna come lo trattava a questo asinello c'era un problema a chi San Giuseppe come lo trattava l'asinello e Gesù il bambino c'erano avuto qualche animaretto a casa qualche gattino qualche colombo qualche pecorella e come lo trattava Gesù il bambino al gattino ai colombi o alle pecorelle d'accordo certo gli animali sono sempre animali non vanno trattati come i cristiani però vanno trattati bene cioè da animale ma nel rispetto d'accordo cioè che se gli posso fare una cosa gradita oppure non non fargli un male gratuito insomma non maltrattarlo ma è certo che lo faccio no ma non lo faccio perché c'ho come dire il cosetto cioè ripensiamo sempre anche a a uno dei dei grandi esempi cioè per noi cioè alcuni valori questo è quello che voglio dire che sono parzialmente a volte anche disordinatamente se mi si consente fatti oggetto di battaglie di come dire e di schieramenti da parte diciamo così del mondo laico ma noi li dovremmo portare prima di più e per più nobili motivazioni per più nobili motivazioni perché come Santa Teresa di Calcutta diceva io non vado a cercare gli ultimi degli ultimi perché sono la onlus o perché sono filantropa io vado a cercare gli ultimi degli ultimi perché lì c'è Gesù e mi muove l'amore verso di lui così io non vado io non è che curo gli animali o ritratto bene perché sono iscritto alla lipo con tutto rispetto per queste associazioni per carità d'accordo quindi ma cioè non c'ho bisogno di schemi alla lipo o al wwf tutte cose qua perché questo già ci sta dentro il mio cuore perché quelli fanno parte del fiat creante perché lì c'è un'opera divina d'accordo lì c'è un atto della divina volontà in ogni singolo animale d'accordo e quello è una cosa che mi sta a cuore perché è la mia vita d'accordo non vado a sporcare il mare e a imbrattarlo d'accordo cioè alcune esigenze io credo che dovrebbero questo è una mia opinione insomma sarà anche discutibile ma dovrebbero nascere come dire spontanee normali normali io quando ho qualche qualche piccolo qualche piccola scelta anche legata al menage quotidiano si può preferire insomma un qualche cosa di per esempio di meno inquinante si cerca di 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 farlo no cioè perché perché dici ma tanto che che importa se una cosa non la fai tu ma non fai cioè è chiaro che non non possiamo come singolo risolvere però se ci mettiamo tutti quanti qualche qualcosa cioè ma è il modo con cui questo nasce dentro dentro un'anima no cioè quello che qui Gesù sta sta dicendo le mie opere quindi le opere della della mia volontà ti appartengono sono due d'accordo cioè quando guardo un fiore immediatamente guardando quel fiore io vedo immediatamente un atto della della divina volontà se guardo un animale gli animali sono di tantissime specie sono sono differenti no quindi non mi ci devo mettere a pensare dunque adesso questo è un gabbiano quindi questo è un atto particolare della divina volontà invece questo è un cane parte quasi in automatico perché è così cioè la varietà infinita delle specie animali delle specie vegetali cosa sono sono tutti atti distinti di volontà divina così come tutto quello che vediamo nella creazione allora la salvaguardia del creato temo oggi all'ordine del giorno riunioni mondiali in Europa ci ha scritto pure nei civili che al Papa su questo cioè sono già miei a prescindere d'accordo a priori subito d'accordo sfondate le porte aperte capite ecco va bene ci proviamo magari lo introduciamo qui c'è un passo fantastico no che è l'ultimo il penultimo del 24esimo volume ci proviamo proviamo almeno a leggerlo questo è 10 settembre 1928 onde seguivo il mio giro nelle opere della maestà suprema e giungendo al punto della creazione dell'uomo pensavo tra me Adamo al principio della sua vita la fece nella divina volontà sicché i suoi pensieri parole passi attenzione erano animati dall'unità del fiat nel senso che abbiamo appena visto in uno li accentro tutti gli atti della creazione il quale abbraccia tutto e contiene tutto senza che nulla gli sfugga oh guardate questo è un ragionamento che sta facendo Luisa Piccarreta con la prima elementare non dimentichiamo mai la prima elementare quindi dagli oggi e dagli domani con tutte le spiegazioni e quello che cominciamo a vivere qui sta facendo un ragionamento cioè io non lo so quale teologo anche bravo contemporaneo farebbe un discorso di questo genere il quale abbraccia tutto e contiene tutto senza che nulla gli sfugga quindi gli atti suoi possedevano attenzione la totalità e la pienezza di tutto e di tutti i beni ogni atto di Adamo prima del peccato originale è un atto solo guardate fatto in questo modo nell'unità del fiat perché noi siamo esseri temporali quindi noi di atti ne facciamo una caterva ma uno solo di questi questo lo scrive Luisa un atto solo fatto in questo modo nell'unità del fiat che abbraccia tutto è un atto che messo insieme a tutti gli altri atti delle creature non può essere pareggiato il frassica che io ho conosciuto che adesso sono arrivato alla trasmissione quando ero bambino quando ero giovanotto a 16 anni indietro tutta diceva non so se mi rendo conto di quello che dico faceva questa battuta ripeto quindi questo lo scrive Luisa quindi ha capito molto bene un atto di Adamo uno capito un respiro di Adamo perché non specifica che tipo di atto vale più di tutti gli altri di tutte le creature umane cioè più di tutti i santi messi insieme cioè non 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 gente qualunque capito gli atti suoi possedevano la totalità e la pienezza di tutti i beni sto rileggendo e un atto solo fatto in questo modo nell'unità del fiat che abbraccia tutto è un atto che messo insieme a tutti gli altri atti di tutte le creature non può essere pareggiato sono considerazioni di Luisa queste qui qui stiamo nella premessa non glielo sta spiegando Gesù lo sta dicendo lei prima elementare e quindi prosegue Adamo che ebbe un periodo di vita in questa unità del fiat ma chissà quanti atti potete fare quanto tempo è trascorso dalla creazione fino al peccato originale mi pare che l'ho già detto io per ora non l'ho trovato negli scritti di Luisa chi l'ha letto tutti forse lo saprà se Gesù da questo dettaglio finora io non l'ho trovato comunque sia c'è un tempo in cui Adamo è stato così e quanti atti ha fatto prosegue Luisa Luisa sicché la sua gloria nel cielo sarà grande e forse supera tutto tolta la sovrana legina che forma vita compiuta nella divina volontà che pensiamo noi di questo ci abbiamo mai pensato se un atto fatto da Adamo prima del peccato originale supera per valore perché è un atto divino tutti gli atti di tutte le creature messe insieme e che gloria ci avrà Adamo in paradiso più grande Adamo più grande Padre Pio tanto per dire un fuoriclasse di prima categoria come la mettiamo? è vero prosegue Luisa che Adamo peccò e uscì da questa unità di volontà divina ma se uscì lui i suoi atti restarono attenzione a questo punto perché credo che nessuna forza né divina né umana può distruggere un atto solo fatto in questa unità del Fiat che abbraccia tutto e possiede tutto non so se mi rendo conto di quello che dico proseguo queste sono considerazioni di Luisa lo dice lei stessa credo cioè se tu fai un atto divino una volta che quell'atto è stato fatto quindi è noi quando un atto lo abbiamo fatto come dice Santo Ammaso Dio è onnipotente può fare qualunque cosa ma non può non può fare in modo che un atto un'azione compiuta fosse anche un pensiero soltanto sia come se non fosse stato compiuto non può solo può fare può impedire di farlo prima ma dopo che è stato fatto nix allora questi atti Adamo li ha fatti e che fine hanno fatto dice Dio stesso non può annientare un atto simile al più dovrebbe distruggere la sua stessa volontà divina ciò che neppure può fare perché essendo eterna in infinita senza principio senza fine è intangibile a tutti e a tutti e nessuno la può toccare onde mentre la mia povera piccola mente si perdeva in questi ed altri pensieri guardate che bei pensieri sta occupata a farci vergognare però una di quelle che l'intelligenza che Dio gli ha donato la usano bene come dovremmo mentre la mia povera piccola mente si perdeva in questi altri pensieri ero voluto liberarmi per passare altrove il mio amato Gesù facendosi vedere quindi non il mio interno quindi facendosi vedere mi ha detto figlia del mio supremo volere a te nulla voglio nascondere perché a chi vive in esso con la E maiuscola il mio stesso volere si fa rivelatore di ciò che ha fatto per amore delle creature e di quello che ha fatto la stessa creatura in esso perché le porta nel suo seno come trionfo delle opere sue ora tu devi sapere che veramente audite audite eh tutti seduti e mi raccomando pronti a questa bomba ora tu devi sapere che veramente Adamo possiede nel cielo una gloria che a nessun altro per quanto santo viene data all'infuori della mamma celeste perché nessun altro possiede un atto solo della mia volontà divina questo era vero almeno fino a questa data cioè fino al 10 settembre del 1928 sono passati da quella data 90 anni questa è una cosa grossa con il dovuto rispetto nessun altro a nessun altro per quanto santa per quanto santo viene data una gloria tranne la mia mamma celeste pari a lui perché nessun altro possiede un atto solo nell'unità della mia divina volontà silenzio per digerire credo questa informazione insomma no era giusto e decoroso della nostra maestà divina che la prima creatura uscita dalle nostre mani creatrici possedesse più gloria di tutti gli altri molto più che il primo periodo della sua vita fu fatto come da noi si voleva Adamo c'è stato un periodo della sua vita che ha fatto tutto perfettissimo perché così è la vita come Dio comanda si può dire che era vita nostra volontà e opere nostre che scorrevano in lui occorre ascoltare meditare digerire queste espressioni proprio ruminarle era vita nostra volontà e opere nostre che scorrevano in lui come poter distruggere questo primo periodo della vita di Adamo se era più nostra che sua è inutile il pensarci ciò che si fa nella nostra divina volontà resta intangibile nessuno lo può toccare perché entra nell'ordine divino ed infinito questo come dice Papa Francesco lo dico sempre dobbiamo mettercelo bene in testa ciò che si fa nella nostra volontà è intangibile nessuno lo può toccare perché sta nell'ordine divino ed infinito non temporale umano e finito e sebbene scivolò e calde Adamo i suoi atti fino ad allora restarono integri e belli come quali li aveva fatti quindi lui restò ferito malato la nostra immagine sfigurata in lui certamente perché non c'era più in lui la nostra volontà divina che aveva preso l'impegno di conservarlo bello fresco forte santo tutto in ordine a noi come lo avevamo fatto perché Adamo stesso lo aveva respinto ma le opere sue fatte fino a quando ebbe la sventura di cadere che possedevano l'unità del nostro fiat non subirono nessun cambiamento perché anche noi eravamo gelosi di questi atti che tanto ci avevano glorificati ci avevano messo in festa nel vedere che l'uomo nostro figlio si elevava fino a noi per assorbire sentite i nostri modi divini la nostra somiglianza per portarsi nell'unità del nostro volere gioia felicità ricambio e sorriso di tutte le cose create allora quando si è così i nostri modi proviamo a pensare ai nostri modi come sono i modi di un figlio della vita non soltanto sono modi come dire sapete che l'educazione la signorilità intensa in senso buono la raffinatezza il garbo il bontone tutto quello che noi vogliamo sono delle cose belle capite qualche antico padre spirituale diceva magari si reimparassero tante cose le buone maniere no trattare per esempio tutti quanti bene trattare tutti in maniera cordiale affabile accogliente è già bello questo è un modo divino come sarà avere noi i tratti di Gesù e di Maria voi capite facendo bene la meditazione su queste cose guardate che la vita diventa un'altra cosa la vita diventa un'altra cosa ma se se noi imparassimo a campare così la chiesa sta in crisi la gente non va più a messa si allontana ma avrebbero tutti quanti affiotti tutti affiotti tutti è irresistibile una cosa di questo genere irresistibile modi divini la nostra somiglianza a chi assomiglio io un io chiaramente non io 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 anche chi sta seguendo chi sta un domani quando è stato tutto registrato ascoltando io a chi assomiglio e assomiglio un po' a Gesù e alla Madonna nei tratti nei modi negli stili prosegue Gesù noi eravamo rapiti nel vedere che il nostro caro figlio l'opera delle nostre mani vivendo nella nostra volontà come in casa nostra prendeva del nostro prendeva del nostro e ci portava nuova felicità gioie senza fine questa è la vita nella divina volontà che la creatura prende tutto da Dio e gli riporta tutto quello che è suo facendo questo però e questo è il gioco divino diciamo così prendo tutto quindi l'accorgo lo abbraccio e te lo riporto tutto quanto perché so che tu sei contento di questo ricambio rivolgo il ricambio d'amore della creatura che ti rende congevo tutto quello che hai da te stesso ricevuto ma questa in fondo la vita divina è così il figlio di Dio nella Santissima Trinità campa così lui riceve tutto dal padre e tutto gli ridona e il circolo di donazione intratenitare lo spirito santo allora continua è un periodo indimenticabile figlia mia dice il primo periodo della vita di Adamo per noi per lui e per tutto il cielo un periodo indimenticabile un periodo indimenticabile ci potrà essere nella nostra vita qualche periodo indimenticabile non solo per noi ma per il padre eterno qui è Gesù che dice questa cosa è un periodo indimenticabile il primo periodo della vita di Adamo per noi con la N maiuscola cioè la Santissima Trinità per lui cioè per Adamo e per tutto il cielo dopo caduto nella colpa lui rimase come un cieco che prima di perdere la vista ha fatto tante opere belle da riempire cielo e terra chi può mai dire che non siano opere fatte da lui solo perché volontariamente perdette la vista e che non potendolo più ripetere perché cieco restano senza valore quelle che ha fatto certo che no oppure una persona che si applica a studiare le scienze a metà dello studio che non vuole più andare avanti solo perché non va avanti si può togliere e distruggere il bene delle scienze che ha acquistato no se questo succede nell'ordine umano ma molto di più e con più validità e certezza nell'ordine divino cioè cosa sta dicendo Gesù Adamo a un certo punto si è caduto ha perso la somiglianza con Dio ha perso tutto ma tutto quello che aveva fatto prima quello rimane cioè se io ci ho sempre visto dopodiché ho un incidente divento cieco non posso più lavorare non posso far più niente ma se io prima di fare questo qua non lo so ero un artigiano facevo fare gname non è che siccome a un certo punto sono diventato cieco i mobili le porte le cose le sedi che ho fatto prima i tavoli sono spariti quindi rimangono certo dopo che sono diventato cieco ogni pozzo fa più ma prima rimangono ecco le opere di Adamo prima del peccato originale onde Adamo prosegue la lettura in virtù del primo periodo della sua vita innocente fatta tutta nell'unità del nostro Fiat possiede tale gloria e bellezza che nessuno lo può pareggiare nessuno tanto che solo al vederlo tutti i beati li conoscono quanto fu bella maestosa arricchita di tanta grazia la creazione del primo uomo nel guardarlo si vede in lui il bene incalcolabile della divina volontà nella creatura la gioia e la felicità che può possedere solo in lui come in uno specchio i beati vedono come fu creato l'uomo l'amore subberante che gli portammo le dovizie con cui lo arricchimmo e tutto gli demmo per quanto una creatura poteva contenere fino a stralipare e poter allagare tutta la terra se ciò non fosse attenzione se in Adamo non si vedesse tutta la magnificenza dell'opera delle nostre mani creatrici neppure nel cielo si doveva conoscere ciò che facemmo di grande nella creazione e quello che fa è può fare la creatura nella nostra divina volontà attenzione cosa sta dicendo purtroppo noi io Leonardo voi non ci rendiamo conto di quello che Adamo ha fatto cioè di che cosa sia davvero vivere nella divina volontà perché non lo sappiamo d'accordo sì ci sta la Madonna ma la Madonna è un discorso a parte ma la creatura uscita dalle mani di Dio è Adamo allora dice voi non lo sapete ma in cielo lo sanno lo vedono lo vedono come ha vissuto prima del peccato originale e vedono che significa vivere nella divina volontà qui Gesù si è sgolato per 36 volumi d'accordo Leonardo sta facendo una piccolissima catechesi ma noi non possiamo rendere bene l'idea Gesù si io certamente no d'accordo non ce la facciamo non ce la renderemo mai perfettamente bene 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 conto però così è in cielo almeno questo in cielo lo devo far vedere è il nostro amore che lo esige anche la nostra giustizia che vuole tenere nel cielo la realtà di quella immagine come fu creato uomo non un altro ma quello stesso che è uscito dai nostri mani creatrici affinché se non lo conosce la terra noi non lo conosciamo lo conosca al cielo meglio lo stiamo imparando a conoscere grazie a queste cose che Gesù ci dice lo conosca al cielo i beati guardano la loro origine in Adamo e riconoscenti mi ringraziano e pregano che venga a regnare il mio via sulla terra e formi altre immagini più belle di Adamo perché in lui non fu opera compiuta nel mio volere divino ma periodo di vita quindi che cosa succede Adamo ci ha vissuto un certo tempo una retina volontà e poi ha smesso adesso prosegue c'è sta una creatura che ha iniziato e ha finito lo sappiamo che è la madonna solo la sovrana regina possiede vite dopo le compiute nel mio fiat perché non c'è chi la possa pareggiare e il mio volere vuole fare altre vite compiute in esso per ripetere ciò che fece nella creazione e far conoscere alla terra in che modo e ordine fu creata la creatura e ciò che può fare di grande di bello di santo e di una volontà in lei quindi in Adamo l'opera iniziò ma non fu compiuta nella madonna l'opera iniziò e fu compiuta in noi l'opera non è iniziata ma può essere compiuta perché possiamo cominciare a vivere se lo desideriamo in questo mondo ripristinare questo filo spezzato concludo la lettura che siamo già fuori tempo massimo oltre a ciò tu devi sapere che finora non ho manifestato a nessuno né i grandi pregi di Adamo né la sublimità grandezza e santità sua perché nel primo periodo della sua vita visse nell'unità del mio volere ed è in virtù di questi suoi atti fatti in esso la sua grande gloria che gode nel cielo anzi si riteneva da molti che siccome scivolò nella colpa al più potesse avere una gloria comuna a tutti gli altri beati o forse anche meno degli altri ma volendo ripristinare di nuovo il regno della mia divina volontà sento in me una necessità di amore di manifestare la prima epoca della creazione il primo periodo della vita di Adamo tutta di volontà divina e la gloria che gode nel cielo in virtù di essa affinché conoscendo le altre creature un tanto bene si dispongano e sospirino il fiat divino come in cielo così in terra ecco perché Gesù lo rivela adesso perché tu sapendo che il nostro progenitore pur avendo fatto un macello e perso tutti i suoi beni ha però compiuto degli atti di questo genere terminata la purificazione terminato il tempo nel limbo dopo la risoluzione di Gesù è andata in paradiso e nel paradiso gode più gloria di tutti eccettuata la madonna perché perché è vissuto nella divina volontà in una santità enormemente superiore a quella anche dei più grandi santi della terra te lo dice adesso perché siccome adesso Gesù ha iniziato le operazioni di ripristino vuole uno che i singoli cerchino di entrarci in questo regno due che tutti cominciamo a pregarci notte e giorno adveniat regnum tuum fiat volontas tua sicuti in cielo metti in terra cioè lo diciamo nel Padre Nostro ma lo diciamo noi con cognizione di causa perché il regno del fiat supremo non è altro che sia fatta la tua volontà in terra così come viene fatta in cielo bene ci vedremo al prossimo appuntamento che chi lo questo è un appuntamento che si svolge su facebook quindi sui social network e guardate quotidianamente i giornamenti della mia bacheca perché la settimana prossima è difficile che riuscirò a trovare un momento per fare la catechesi ma la settimana seguente probabilmente sì probabilmente con una buona data potrebbe essere il 2 gennaio mercoledì 2 gennaio per riprendere un pochino il discorso comunque aggiornerò tramite social network sulla prossima puntata la mia benedizione a tutti santanotte e fiat ave maria